Possiamo salvare Dog Day di Poppy Playtime togliendogli le catene? Proviamo! Allora ragazzi vorrei provare una cosa Stanno girando dei video dove dicono che se noi tocchiamo le catene di Dog Day col grab pack Tipo in questo modo Poi lui si dovrebbe teoricamente staccare dalle catene e salvarsi Io ho seri dubbi su questa cosa che funzioni Però proviamoci Allora ciao Dog Day Ora ascoltami ti devo salvare Dobbiamo aspettare che i Smiling Critters lo attacchino E poco prima cercare di staccargli le catene tipo così Ecco così esattamente così Ci siamo Stanno arrivando Staccargli le catene Staccargli le catene Ragazzi non si staccano Mi sa che non è vero No no povero Dog Day Oh si sono staccate Vediamo se è funzionato Ciao Dog Day come ti va la vita? Mi sa che quelle sono delle mod No 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 Sì